Molti di voi mi hanno chiesto quali skill utilizzare per Jinwu. In realtà le skill si utilizzano in base alla situazione. Ci sono skill che si utilizzano per gli scudi dei boss o skill che si utilizzano in presenza di non scudi. Infatti, avendo delle skill in base alle varie rune, sarà possibile fare più danno. Che vuol dire? Vuol dire che alcune skill come ad esempio questa o anche questa o anche questa hanno come capacità il break sullo scudo. Quindi vuol dire che se io equipaggio la 1 e la 2 con il break scudo, molto probabilmente sto buildando Jinwu per poter sciogliere gli scudi del nostro boss. Invece, se utilizzo skill di questo tipo, invece, avrò più danni contro orde di mostri. Ma anche contro i boss è possibile fare danno con queste skill, semplicemente con l'utilizzo delle nostre rune. Deserziono e serziono la runa per farvi capire che in realtà sta cambiando non solamente il danno all'interno della skill, ma anche la sua capacità. Come ad esempio questa runa blu su questa skill ne aumenta il danno sui mostri che hanno uno status break. Quindi vuol dire che non hanno scudo del 70%. Questa la rende una buona skill contro boss che non hanno scudi. Stessa roba vuol dire anche per le altre skill, quindi poi sarà a voi cercare le rune giuste in base anche alla situazione. È possibile anche avere delle rune che cambiano notevolmente danno in base all'elemento della skill. Vuol dire che la runa garantisce, in questo caso vediamo una runa ombra, un elemento ombra sulla nostra spell. Questo vuol dire che quando dobbiamo sconfiggere un boss che richiede un certo elemento, ovviamente utilizzeremo non solo una skill che fa danno su un boss, ma oltretutto la utilizzeremo anche con la runa che ha l'elemento giusto per andargli contro. Un altro aspetto molto importante per le skill invece riguardante proprio le armi. In realtà le skill si trovano dovunque, quindi non solo all'interno di GV, ma si trovano anche all'interno delle nostre armi. Quindi mi raccomando aumentate anche queste spell, soprattutto se l'arma è quella giusta. Stessa cosa vale per i nostri hunters, infatti se clicchiamo skill sarà possibile notare che possiamo aumentare il loro basic attack, skill primari e secondari ed anche ultimate, sia che essi siano attivi sia che essi siano passivi. Sono quindi molte skill quelle da dover aumentare. Prima di lasciarci però voglio farvi vedere Fuse. Fuse è in grado di garantirsi una skill nel caso in cui noi utilizzassimo 100 pezzi di runa e frammento. Quindi una volta utilizzati 100 pezzi e 20.000 gold e clicchiamo Fuse, sarà possibile ottenere una runa randomica. Detto questo come sempre vi ringrazio della visione e ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti! Grazie